Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di materiali dispersi si registrano rallentamenti tra Firenze Scandice e Firenze Sud in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica si ricorda che a causa di lavori fino al 28 febbraio rimarrà chiuso il letratto tra aglio e Roncovilaccio in direzione Bologna. Sempre fino al 28 febbraio in Fipili per lavori al viadotto Stagno sul ramo di Livorno all'altezza del chilometro 76 e 400, restringimenti di carreggiate in entrambe le direzioni con possibili disagi. Cantieri di Firenze fino al 27 aprile per lavori edili in via dei Barni, divieto di transito tra via Mosche e via Martellini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze